uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone daie can you hear that dream in the old shop uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xiodar e ragazzi guardate guardate là davanti a me sopra le basi aeree è apparso il timer ragazzi ringrazio i ragazzi in chat che me lo hanno fatto notare e come vedete finalmente abbiamo un orario preciso dell'evento della season numero 9 53 secondi 56 minuti 9 ore e 7 giorni quindi ragazzi sarà settimana prossima sabato prossimo molto probabilmente ne vedremo delle belle ragazzi una cosa incredibile esattamente uguale a quello che vi avevo mostrato nei file di gioco scoperti quindi ragazzi che dire prepariamoci davvero all'evento di questa season che ci porterà piano piano alla season numero 10 io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo velocissimo video ricordo ai ragazzi che sono in live che non me ne sto andando noi ci vediamo presto ciao 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 ciao